Buongiorno Spero che sia anche per voi una buonissima giornata quella di oggi martedì 3 agosto siamo in diretta sono le 7 e 20 minuti come sempre l'appuntamento con la lettura dei titoli dei quotidiani locali su Rossini TV sul canale 633 l'unica tv presente a Pesaro visibile in tutta la regione Marche partiamo subito con delle belle immagini che ci portano alle Olimpiadi perché arrivano altre medaglie italiane in questo caso vedete questa bellissima Vanessa Ferrari che mette alle spalle la sfortuna una carriera fatta di tanti infortuni e guai fisici ed è ed arriva l'argento appunto alle Olimpiadi l'esempio dei nostri atleti per un'Italia che deve puntare alla ripresa queste sono delle parole bellissime così come bellissimo il titolo di questa immagine è stato di grazia a 30 anni Vanessa Ferrari al terzo tentativo vince finalmente la medaglia d'argento nel corpo libero alle Olimpiadi e allora il quotidiano sportivo oggi fa una sintesi bianco-rosse-verde di quelle che sono le medaglie che ci hanno fatto sognare in questi giorni più belli dei sogni impariamo come crescere vedete Marcel Jacobs, Gianmarco Tamberi proprio ieri e poi Vanessa Ferrari dopo l'oro di Jacobs e Tamberi Vanessa Ferrari è d'argento nella ginnastica questi sono veramente l'orgoglio del nostro paese così come il Corriere Adriatico Pesaro apre con Tamberi sul podio di Tokyo e ora il matrimonio oggi nel Corriere Adriatico trovate tante pagine dedicate a questo atleta marchigiano la sua storia, il suo futuro, i suoi progetti oro e gesso in cornicio tutto e quindi oggi vi consigliamo di acquistare il giornale perché c'è veramente tutta una storia di un grande atleta e allora qui vedete la prima foto sul giornale a scuola hanno della maturità poi ancora dai canestri ai cinque cerchi un grande sportivo che ha sempre lottato ma rimaniamo sulla prima pagina del Corriere Adriatico perché in apertura, e c'eravamo anche noi ieri sera si parla di rivoluzione delle opere pubbliche una rigenerazione urbana, Ricci e la Giunta accelerano è già pronto il bando per un nuovo dirigente Giraldi cambierà ruolo una diversa task force per gestire i fondi ministeriali che sono in arrivo Baldelli assicura Perugia-Ancona sarà terminata in cinque mesi a proposito appunto di infrastrutture a Pesaro, ragazzina ubriaca da star male arriva l'ambulanza e poi sempre a Pesaro emergenza idrica mancano i dati e il vertice è stato rinviato candele e unità feste confermate ma solo con il Green Pass smart working e scontro in tv una verità falsata polemica in consiglio sul servizio che è stato trasmesso da Rete4 zona bianca il sindaco ammette gli uffici vuoti ripresi fuori orario e quindi non ci sta il sindaco ad accettare appunto queste considerazioni sbagliate sul suo comune l'amministrazione comunale allora entriamo nelle pagine del Corriere Adriatico per i sanitari Novax cosa accadrà? stop agli ultimatum partono 350 lettere l'ASUR infatti invia i nomi ai vertici delle strutture per i conseguenti provvedimenti in tutto sono 1200 gli operatori che non si sono voluti sottoporre alla profilassi che cosa succederà? ricevuto dal servizio sanità l'elenco degli operatori sanitari marchigiani già da metà giugno l'ASUR attraverso il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica aveva iniziato ad inviare le notifiche con le quali invitava gli interessati a produrre entro 5 giorni la documentazione che comprovasse l'avvenuta vaccinazione allora le ipotesi sono due se un sanitario continua a non vaccinarsi o viene demansionato o viene sospeso queste sono le volontà per quanto riguarda appunto gli operatori sanitari anche perché come vedete come vi diciamo noi tutte le sere nel nostro telegiornale i positivi nelle Marche aumentano altri 4 positivi in ospedali nelle Marche sono 2.095 i contagi ma il Covid non uccide più per fortuna questa è la bella notizia i sintomatici però sono 1.193 nuovi accessi anche nel pronto soccorso la buona notizia appunto come dicevo è che il Covid continua a contagiare ma non uccidere e che da diversi giorni ormai la drammatica conta delle vittime del virus è ferma a 3.039 l'età media è di 82 anni per il 97,2% affetti da patologie pregresse sono 65 i nuovi casi concentrati nelle province di Ancona e di Pesaro e Urbino ed ora andiamo a vedere la riorganizzazione lavori e opere pubbliche il sindaco ora raddoppia i due servizi e i suoi dirigenti per cercare di essere pronti e preparati per tutte queste ristrutturazioni e rigenerazioni che ci saranno si parla proprio di una rigenerazione urbana Ricci e la Giunta accelerano sul personale per non trovarsi impreparati all'arrivo di questi fondi nazionali ministeriali lascerà l'attuale delega nella pianificazione opere il dirigente Eros Giraldi che probabilmente dovrà spostarsi per ricoprire un altro ruolo e per sostituirlo ora è corsa aperta la nuova figura dirigenziale ci sarà una selezione pubblica chiaramente spostamenti di incarichi e c'è anche il nodo insomma sul personale il progetto nuove opportunità individuate per le aree produttive degradate stiamo parlando della zona artigianale di Via Toscana ad esempio e Vecchia Fiera di Campanara sono due luoghi in cui si provvederà a fare i primi interventi intanto ieri si è tenuto a un incontro molto importante in cui sono state raccontate le opere che si faranno con questi 15 milioni che arriveranno nel territorio per ridisegnare sei storiche realtà locali ora anche per le colline e i nostri borghi da Ginestreto fino a Fiorenzola di Focara c'è una speranza appunto con il bando nazionale PINQUA acronimo di programmazione innovativa di qualità dell'abitare che il nostro comune si è aggiudicato da solo Ginestreto ad esempio aggancerà circa 3 milioni di euro il plafond di risorse più alto rispetto alle altre realtà parterre d'eccezione ieri per la presenza per la partecipazione pubblica degli interventi la cui progettazione esecutiva hanno ricordato il sindaco e Vimini dovrà essere rapida altrimenti il rischio è che lo Stato possa riprendere i fondi elargiti quindi con velocità adesso bisogna investire e attuare subito mettere in pratica subito questi soldi in progetti consistenti per questi borghi e colline del nostro entroterra ed ora passiamo alla cronaca perché una ragazzina giovane ha bevuto un mix di superalcolici e si è ubriacata talmente tanto da dover chiamare l'ambulanza aveva bevuto una bottiglia di superalcolico al Miralfiore tra l'altro si segnala anche una rissa tra stranieri e partiamo allora dalla ragazzina aveva consumato una bottiglia di superalcolico ma la ragazzina si è sentita male tanto che il fidanzato ha chiamato l'ambulanza sul posto è intervenuta anche la volante per chiarire la situazione e capire anche dove i due giovani avessero preso il superalcolico dato che ne è proibita la vendita ai minorenni nella notte tra domenica e lunedì intorno a mezzanotte e mezza la volante è stata anche chiamata per un violento litigio nella zona tra la stazione e il parco Miralfiore tra un nigeriano e un gambiano torna la festa dell'unità il classico appuntamento del partito democratico che avviene proprio ad agosto e anche in questo caso come la festa dedicata alle candele candele sotto le stelle l'accesso sarà consentito solo con il green pass sarà a Pesaro la festa dell'unità il 23 agosto due giorni dopo l'avvio della Kermess politica informazione e spettacoli la location è sempre quella centrale quindi stiamo parlando di piazza del popolo e poi ancora i giardini Rizzo Ortolani e piazza Olivieri per questa edizione 2021 gli organizzatori Democrat anticipano che l'evento si svolgerà appunto proprio in piazza del popolo dal 25 al 29 agosto ma con un'anticipazione lunedì 23 del ministro della salute Roberto Speranza in questo caso in piazzale con l'enuncio per candele sotto le stelle anche qui abbiamo detto obbligatorio il green pass Ricci annuncia anche dei tamponi gratuiti per 4 giorni abbiamo dice concordato con il prefetto che i controlli verranno effettuati a campione su tutto il lungomare i dettagli e il programma di candele sotto le stelle che quest'anno sarà accessibile solo ai possessori di green pass verranno presentati nella conferenza stampa di oggi alle 10.30 nella sala del consiglio e noi questa sera vi mostreremo tutte le novità di questa edizione appunto nel telegiornale recupero del San Benedetto Biancani stia sereno queste sono le parole di Nicola Baiocchi che è consigliere regionale di Fratelli d'Italia e rassicura sull'impegno di Regione e Asur nel recupero dell'ex manicomio e dice voglio tranquillizzare il consigliere regionale del PD a seguito dell'ottenimento di 15 milioni di euro ottenuti con l'inserimento in graduatoria del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare promossa dal MIMS mi sono prontamente attivato con la Regione affinché si continui a monitorare la situazione e si dia corso al rispetto dei tempi decisi rispetto che a quanto pare è fondamentale perché altrimenti abbiamo visto ecco questi fondi così come vengono eragiti possono essere anche ripresi quindi in tempi brevi bisogna creare e realizzare dei progetti eravamo presenti anche noi lunedì appunto ieri alla presentazione del Yellow Park di Tavulia tra l'altro mercoledì sera alle 21.15 vedrete tutto il racconto quindi come poter accedervi che cos'è quali strutture ci sono all'interno veramente un parco bellissimo ecco è dedicato a tutti i bambini del mondo e chiaramente a tema perché siamo a Tavulia Valentino Rossi ieri il taglio del nastro l'area attrezzata in collaborazione con il fan club di Valentino Rossi vedete qui questo parco nuovissimo un parco giochi inclusivo dedicato a tutti i bambini del mondo attendiamo visitatori da tutta Europa qui si potranno scattare foto dei migliori momenti della carriera di Valentino Rossi dicono la sindaca Paolucci e Rino Salucci una pennellata di giallo in un'area verde c'è la moto in miniatura con il numero 46 i sette nani in versione Valentino con i quali scattare le foto il polo Osvaldo simbolo dei festeggiamenti del il polo scusate Osvaldo simbolo dei festeggiamenti del dottore a fine gara lo vedete qui insomma guardate che carino insomma veramente fondamentale anche l'apporto di terre di piloti di motori la gioia chiaramente della sindaca Paolucci che la vedete qui è sorridente e appunto ricordatevi di vedere il 21 e 15 mercoledì sera il nostro speciale tv ed ora si parla di strutture nella città di Pesaro dedicate allo sport noi qualche tempo fa abbiamo parlato del toro ski del pattinaggio di cui prossimamente vedrete anche un nuovo speciale con tutti i traguardi che questa società di pattinaggio in linea pesarese sta portando avanti ecco tempo fa si lamentava il fatto che a Pesaro non ci fossero strutture per il pattinaggio tant'è che questa società ha dovuto poi trovare degli spazi nelle città limitrofe ora si parla di Megabox Megabox aveva richiesto una sede per poter fare gli allenamenti e le partite Megabox occasione perduta abbiamo offerto il pala Nino Pizza della Dora spiega le difficoltà di ospitare la squadra di volle femminile a Pesaro la Megabox Vallefoglia infatti trasloca a Urbino per quest'anno non sono state concesse deroghe e il pala Dionigi ha bisogno di adeguamenti in primis il rialzo del soffitto per poter essere ad hoc per la categoria chiaramente A1 della Megabox il pala Sport Carneroli è stato individuato come l'impianto più adatto la città ducale ha mostrato entusiasmo e disponibilità per riprendere le parole del presidente del club neopromosso in A1 Ivano Angeli molti si sono domantati perché Pesaro non avesse spinto aprendo le porte a una squadra importante e la città ha una storia anche nella tradizione appunto del volley il palascavolini di Viale dei Partigiani apparirebbe come la casa ideale ma ancora non è pronto e quindi qui c'è la proposta del palanino pizza ma poi la società ha scelto Urbino ed ora andiamo a Monbaroccio all'aumento della Tari Marche Multiservizi ora riduca le tariffe la protesta dei gruppi di minoranza di Monbaroccio le famiglie sono davvero in difficoltà si chiedono sacrifici agli utenti mentre il gestore ha realizzato utili per 13 milioni di euro e poi a Carpegna musica tra cantautori e letteratura del novecento alle 21 e 15 questa sera a Carpegna lo spettacolo di Giorgio Bravi e Giuseppe Grassi oltre un mese di eventi ad ingresso gratuito per tutti i gusti musica teatro letteratura insomma tanti eventi a Carpegna in questa cittadina veramente che sta organizzando un'estate veramente molto molto bella ed ora andiamo a Urbino Urbino e parla il presidente di Urbino Arte Vitaliano Angelini lo vedete qui che lamenta la necessità di una sede per Urbino Arte quindi manda una lettera al sindaco Gambini il presidente Angeli giudica incomprensibile il mancato aiuto all'associazione la valorizzazione è un sipario pensate digitalizzato del teatro della fortuna di Fano tutta la tradizione storica di Fano guardate qui il sipario con Vitruvio realizzato da Francesco Grandi nel 1863 l'opera in 3D visionabile sul sito istituzionale il 24 festa per il 158 anniversario il lavoro svolto dalla Politecnica delle Marche rafforza l'identità in vista delle nuove sfide visto che il sipario accoglie i principali riferimenti storici della città di Fano si può comporre un sillogismo secondo cui il teatro della fortuna custodisce la memoria e la tradizione fanese smart working il sindaco le riprese tv fuori orario seri sul caso degli uffici vuoti ripresi da Rete 4 e il movimento 5 stelle dice si scusi ricostruzione non rispettosa della verità zona bianca di Rete 4 sembrava introdurre le telecamere all'interno di uffici comunali desolatamente vuoti come mosso dall'intento di avvalorare la tesi di abbandonare lo smart working generalizzato in consiglio comunale il sindaco seri ha voluto chiarire lo spiacevole equivoco non ero a conoscenza che fossero state riprese quelle immagini si è difeso non sussiste alcun obbligo di adottare il pola ribadito seri circa il piano organizzativo del lavoro agile ci spostiamo a Fossombrone a parlare c'è il sindaco ancora per poco Gabriele Bonci replica le critiche assegnati dal MIUR 4 milioni Bonci manca il bando per i centri commerciali naturali ma Chiara Billi ne era al corrente e poi a Frontone anche qui turismo nel nostro bellissimo introterra terre del Catria esperienze per la famiglia ma non solo dalle e-bike al cavallo alla gastronomia l'area ad agosto offre tante occasioni di svago e c'è ad esempio anche il Kinderland Adventure Park il parco giochi acrobatico unico nel suo genere in tutta la regione Marche e poi insomma tantissime possibilità per la zona siamo a zona di Frontone nella terra del Catria e tante attività proprio per godersi un'estate non solo per forza in spiaggia ed ora andiamo a vedere e ritorniamo su questo incendio grossissimo che ha colpito la regione Marche e tra l'altro poi vedremo nel resto del Carlino ha causato anche degli importanti blocchi nella circolazione ferroviaria la mano dell'uomo dietro le fiamme caccia il responsabile del maxirogo siamo nella provincia di Ancona incendio scatenato da un gesto volontario qualcuno avrebbe bruciato rifiuti in una discarica pensate sono andate avanti per una notte intera e per tutta la giornata di ieri le operazioni di spegnimento di questo maxirogo che domenica avete visto ha fatto tremare la riviera del Conero i vigili del fuoco sono tuttora impegnati nelle attività di bonifica e di sorveglianza di un territorio molto vasto che interessa quattro comuni da Loreto a Numana passando per Castelfidardo a Porto Recanati le telecamere ora sono al vaglio dei carabinieri forestali i vigili del fuoco ancora impegnati nella bonifica e poi le fiamme da sud-est si sono propagate fino a nord-est fagocitando materiale facilmente combustibile questo è quello che è successo e poi se andiamo a vedere l'Ansa una notizia di ieri alle 22 25 ecco questa notizia qua incendi lungo la statale 16 continuano le azioni di bonifica e vigilanza due squadre sono ancora attive per questo monitoraggio 230 interventi per vento forte allora qui vedete appunto l'immagine e qui quanto si dice appunto che proseguono e stanno ancora proseguendo i lavori appunto di spegnimento di questo forte incendio ed ora passiamo allo sport intanto lo sport del Corriere Adriatico primi sorrisi per la Vispesaro dopo il test con il Grosseto al di là del successo il tecnico Banchini ha raccolto indicazioni importanti soprattutto dai tanti giovani e poi Fano invece tra dubbi e speranza in attesa di buone notizie dopo l'udienza del Chievo Altar oggi tocca Carpi Casertana Novara e San Benedettese il club paga l'incertezza ma Agliano puntualizza non è colpa della società se siamo così in ritardo qui vedete il responsabile dell'area tecnica qui nell'immagine che si chiama Enzo Agliano oggi Russo di nuovo in città Mario Alessandro Russo in procinto di rilevare il Fano è il tempo delle prime scelte e poi Aza e Carlos mi piace la VL Walter Magnifico oggi parla in questa intervista è affascinato della nuova squadra i sudamericani hanno sempre carattere il dirigente pesarese entusiasta anche della nazionale che oggi sfida la Francia alle Olimpiadi ed ora torneremo poi alla fine in chiusura con il quotidiano sportivo intanto andiamo a vedere la prima pagina del resto del Carlino di oggi in apertura si parla dei vaccini come sapete insomma avete visto e vi abbiamo anche raccontato l'assalto degli under 30 prima la punta la puntura poi la vacanza è quello che sta succedendo appunto per avere il Green Pass arrestò ieri mille somministrazioni positivo anche il debutto del camper viaggio nel paese del campione Valentino lascia ora doppia tavuglia i giorni della verità il sindaco a noi ha dato tanto la fotonotizia vedete qui la stazione in questo caso dovrebbe essere Porto Recanati comunque linea bloccata dagli incendi 13 ore di disagi la testimonianza di un'avvocatessa la mia odissea sul treno a causa appunto di questi incendi scoppiati nelle marche anche qui progetti per borghi e colline per 15 milioni di euro la ragazza che è collassata 15 anni dopo aver scolato una bottiglia di superalcolico torna alla festa dell'unità il Deben ecco qui la notizia e la svolta l'hotel andrà all'asta uno degli alberghi storici della città e poi anche le notizie riguardanti lo sport ma partiamo con l'apertura oggi il resto il Carlino parla e racconta l'odissea tragica soprattutto quando è così caldo e soprattutto quando si sta ore e ore e ore nel treno l'odissea sul treno bloccati dall'incendio lasciati soli senza neanche un po' d'acqua la protesta di un'avvocatessa di Urbino ferma dalle 15.30 pensate a mezzanotte e mezza sono intercity a Porto San Giorgio tornata a casa alle 4.10 del mattino anche a Pesaro Fano e Marotta centinaia di passeggeri fermi per oltre 10 ore senza aiuti e informazioni questo veramente però inaccettabile ogni ogni treno dovrebbe avere una scorta almeno di acqua se ci sono questi blocchi imprevisti le fiamme di Loreto 19 treni stoppati pensate tutta la rete ferroviaria adriatica si è paralizzata per il fumo e anche il pericolo i vasti incendi che hanno interessato anche le marche oltre che l'Abruzzo si sono rilevati micidiali per il trasporto ferroviario che dalle 15.30 circa è stato bloccato sia a sud che a nord per impraticabilità della rete quindi da un momento all'altro 11.000 passeggeri che viaggiavano su 19 treni sono rimasti bloccati nelle varie stazioni soprattutto marchigiane trenitalia intanto dice ripaghiamo il biglietto abbiamo fatto il possibile sono stati inviati 7.562 sms tante mail mentre 1.405 viaggiatori sono stati irraggiungibili la puntura prima della vacanza per andare in vacanza bisogna avere il green pass avete visto questa legge dal 6 agosto insomma è veramente obbligatorio se si vuole accedere a certi servizi pubblici o comunque a certi luoghi il ristò ha ripreso quindi a pieno ritmo soprattutto con la fascia dei ventenni solo ieri mille inoculazioni devo andare in Portogallo con il mio ragazzo era l'unica soluzione c'è chi ha rimandato per studio o lavoro e qui ci sono varie testimonianze intanto per facilitare i vaccini anche l'utilizzo di questi camper messi a disposizione appunto dalla regione i camper sono partiti da Borgo Pace come primo luogo insomma nella nostra provincia di Pesar Rubino le impressioni di alcuni dei 31 immunizzati ieri mattina a Borgo Pace un 23enne in questo modo ci siamo risparmiati il viaggio a Urbino il primo cittadino dice è fondamentale il servizio di prossimità questo sistema sarà indispensabile quando in autunno ci chiederanno di fare la terza dose le notizie che arrivano dalla città si parla in questi giorni molto di hotel per fortuna tutti pieni a Pesaro ma anche nei comuni limitrofi che si trovano sul mare ebbene oggi si parla dello storico hotel De Ben che va all'asta in Viale Trieste lo vedete insomma molto bene all'angolo con Viale della Repubblica è uno dei primi alberghi della città è stato costruito nei primi anni 20 una svendita questo è il sottotitolo il complesso che di oltre 3000 metri quadrati viene valutato poco sopra i 500 euro al metro la storia legata è al crack di Banca delle Marche qui potete leggere insomma tutta questa storia di questo hotel anche qui la notizia che torna la festa dell'unità a Pesaro dal 23 al 29 agosto in Piazza del Popolo il debutto sarà il 23 con il ministro Speranza anche qui il racconto di questa ragazzina 15enne in coma etilico una corsa veloce in ospedale la giovanissima è collassata di schianto sabato notte aveva bevuto insieme ad un coetaneo l'intera bottiglia di Jägermeister e poi è stato denunciato un brasiliano molesto in via Solferino già allontanato con un daspo urbano è stato trovato di nuovo lì e non doveva esserci qui potete leggere oggi nel resto il Carlino progetto per progetto comune per comune quelli che saranno gli investimenti appunto per edilizie strade servizi e per far rinascere i borghi da Fiorenzuola a Novilara dai parchi alle extra politana ai progetti del comune che ridisegna l'intera viabilità del circondario ecco Ginestreto Novilara il parco delle mura riqualificazione del giardino eccetera qui potete leggere oggi sul giornale Monte Cicardo il suo conventino meraviglioso destinando 340 metri quadri del piano terra servizi culturali e residenze per artisti insomma tanti progetti veramente per far vivere rivivere e ristrutturare questi bellissimi borghi Santa Maria dell'Arzilla e poi Candelara e Fiorenzuola anche qui il Yellow Park che è stato inaugurato appunto ieri i giardini per tutti i bambini è inaugurato lo spazio inclusivo a due passi dal VR46 di Valentino qui anche i piccoli con problemi potranno accedervi e divertirsi le nostre attività andare negli ospedali e portare regali a tanti bambini fragili bilancio positivo per la notte bianca di Vallefoglia bar e ristoranti pieni di gente hanno finalmente lavorato tanto soddisfatto quindi Palmirucchielli il sindaco e anche sulla pagina di Fano chiaramente si parla della presentazione di questo sipario tecnologico dal palco al web sipario e teatro a portata di click il tempio della cultura fanese è ora visitabile anche con un tour virtuale realizzato dalla fondazione con l'università politecnica delle marche sempre a Fano la mozione ASET è una vittoria per la città mascarina registra del no alla fusione come ben sapete si augura un confronto con marche multiservizi e rilancia Fano come modello di centro-sinistra vincente e poi parchi e giochi in sicurezza inaugurato il percorso multisensoriale di Ponte Murello primo step del progetto di riqualificazione e poi andiamo ancora avanti Foschi a Urbino caso sanità il PD è senza pudore l'assessore comunale replica attaccano la regione nel giorno in cui stanziano milioni di euro per il nostro ospedale il PD è proprio senza pudore intervengono attaccando la giunta regionale di centro-destra proprio nel giorno in cui quella stessa giunta a cui loro attribuiscono scarso interesse verso Urbino ha deliberato uno stanziamento di fondi senza precedenti e qui vedete il consigliere regionale Giacomo Rossi che dice una legge sugli itinerari ebraici finalmente ha trovato assenso trasversare la proposta del consigliere Giacomo Rossi si preserverà così un'identità culturale ricchissima e poi come sempre ci sono tante pagine dedicate agli spettacoli alla cultura e a tutti i concerti che potrete trovare nel nostro territorio ma anche nella vicina Romagna ma adesso andiamo a vedere le pagine sportive del quotidiano sportivo la fata della ginnastica così è chiamata Vanessa medaglia d'argento carriera d'oro infortuni ingiustizie sfortune finalmente arriva il podio per la Ferrari quando si decide di volere vincere l'uomo vince c'è poco da fare anche contro infortuni ingiustizie il pensiero supera veramente il fisico la forza di volontà supera i limiti del fisico e così è Vanessa vince la Carey un assist alla Biles ci stiamo e ci stimiamo e ripartirà qui vedete la mamma di Vanessa che la guarda mentre fa questa gara e appunto tiene la medaglia e poi ancora adesso ritorniamo invece alle notizie locali la vis di nuovo al Benelli vedete qui una parte della squadra in vista del test San Marino dopo le due settimane di ritiro a Chianciano e la vittoriosa amichevole col grossetto mister Banchini cerca di valutare attitudine e qualità nascoste al Mafano in campo più avvocati che giocatori attesa palpitante per le decisioni di oggi del Tar del Lazio sul ricorso delle cinque squadre bocciate dal Coni e Spindola Sara Cinesca con vista Champions Ital Service il nuovo acquisto a ruota libera sul prossimo campionato Pesaro è sulla strada giusta anno dopo anno il progetto cresce sempre di più e Spindola quindi il colpo di mercato dell'Ital Service con la dirigente dell'Ital Service e vedete alcuni piccoli tifosi il prossimo 9 settembre a Villa Cerbara ci sarà la presentazione ufficiale sia del nuovo campionato che della squadra e noi chiaramente ci saremo e vi testimonieremo il tutto e poi VL il rompicapo del secondo playmaker trovare un cambio italiano per Paceco è più dura che Pescare un centro straniero all'altezza Cinciarini e Vitali strade in salita Lorenzo Calbini dice la società che partirà con il 2002 figlio d'arte in panchina ma è vero? vedremo un po' qui vedete intanto la foto di Lorenzo Calbini classe 2002 compirà 19 anni a fine anno in questa stagione è stato a lungo fermo per un infortunio alla spalla e allora lasciamo l'immagine sui campioni italiani e andiamo subito a raccontarvi quella che sarà la programmazione di Rossini TV partiamo quindi con i nostri cartelli vi abbiamo già detto ma ve lo ricordiamo che tutti i giorni da lunedì al venerdì vi faremo rivedere la stagione di Casa Rossini la stagione 2020-2021 una stagione di grande successo sia alle ore 10 che alle ore 22 quindi se siete a casa se siete al mare volete vedere la puntata attraverso il vostro cellulare scaricate l'applicazione vedete le puntate di Casa Rossini Casa Rossini il nostro salotto che ha ospitato tantissimi personaggi del territorio e non solo per parlare di arte di cultura di eventi di intrattenimento insomma un programma davvero molto divertente che possiamo rivedere quest'estate e poi vi rimostriamo anche le puntate della nutrizionista chilometro zero Raffaella Bocchetti che ci presenta le sue ricette tradizionali del nostro territorio chiaramente con prodotti locali tutti martedì e giovedì alle ore 12 quindi all'ora di pranzo seguite questo appuntamento oggi chiaramente vedrete una puntata a mezzogiorno e poi ancora vi ricordiamo anche che vi con molto piacere vi rimostriamo questo programma che si chiamava Rossini Kids andati in onda un anno e mezzo fa circa da lunedì al venerdì alle 16.30 lo spazio dedicato ai bambini in collaborazione insomma con varie società di produzione Rossini Kids tanti programmi cartoni canzoncine che potete rivedere appunto tutti i pomeriggi alle ore 16.30 e poi invece arriviamo alla prima serata alle 21.15 note oliveriane questa bellissima serata che si è tenuta al 29 luglio dedicata a Modugno il padre dei cantautori italiani in collaborazione chiaramente con l'ente Olivieri e quindi questa serata ve la rimostriamo questa sera alle 21.15 a seguire invece alle 21.30 gli stati generali dell'artigianato marchigiano che si sono tenuti a Carpegna quindi anche questo è un appuntamento molto interessante perché si vedono e si parla dell'artigianato marchigiano che è veramente ricchissimo ho detto davvero tutto come vedete Rossini TV continua rimane aperta sempre ormai siete abituati a vederci anche in estate le trasmissioni continuano sempre telegiornale rassegna stampa non ci fermiamo mai chiaramente ci vedrete un pochino alternati perché anche noi ci prendiamo un po' di ferie ma l'informazione è sempre vicina a voi grazie a Rossini TV quindi vi ricordo sempre scaricate l'applicazione sul vostro telefono per poterci vedere in qualsiasi momento della giornata grazie a tutti come sempre ci vediamo questa sera nel telegiornale grazie a tutti grazie a tutti buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me buongiorno al latte dal caffè buongiorno a chi non c'è è il mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vede io vorrei è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per me a chi non c'è Grazie a tutti.